Salve, siamo qui oggi per illustrarvi il nuovo prodotto della Geico, una videocamera di sorveglianza con schermo LCD wireless, il modello è il GKS3524, accostabile online dai migliori rivenditori Geico. Adesso procederemo con il montaggio della telecamera sulla porta esterna dell'abitazione per dimostrarvi quanto è semplice montare questa telecamera. In notazione la telecamera porta una Fischer da 0,5 mm, noi utilizzeremo il GKS3524, l'assembler, in modo tale da poter installare la telecamera senza dover bucare la parete. La telecamera porta tre canali in modo tale che lo schermo possano essere collegati fino a tre telecamere contemporaneamente. Grazie. 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 Noi basta collegare il cavolo di rete elettrica come alimentare le telecamere. Basta collegare e accendere lo schermo per cominciare a vedere i risultati del nostro lavoro. la telecamera è dotata di sensore di movimento attivando il sensore di movimento una volta collegata alla telecamera basta attivare lo schermo automaticamente riceverà il segnale dalla telecamera sul canale 1 è possibile ovviamente cambiare i canali nel caso in cui ci abbiano telecamere installate lo schermo porta un mantenno ovviamente per la ricezione del segnale della telecamera una piattaforma per caricare la batteria e l'audio la telecamera ovviamente è trovata di microfono quindi è possibile sentire cosa viene detto al di fuori della porta anche a distanza questo è tutto grazie mille per la visione a presto su Genco